Assolutamente persona e tecnologia ma anche campo e teoria, teoria e pratica. Io penso che noi possiamo essere molto utili perché siccome facciamo accadere le cose per lavoro e trasformiamo progetti in infrastrutture, in ricavi, in posti di lavoro, in concretezza, adesso che c'è tanta tecnologia, tanta potenza da trasformare in azione, noi possiamo essere molto utili. Quindi non come tecnologi ma come esperti di realizzazione di grandi complessità e di opere molto complicate.